Selene Freimazzola, la giovane di 21 anni, trovata senza vita domenica scorsa nell'appartamento dell'ex compagno Omer Cim a Silandro, in Alto Adige, è morta a seguito delle coltellate ricevute. In queste ore sul corpo della ragazza è prevista l'autopsia come da disposizione del pubblico ministero di turno, ma dalle prime indiscrezioni sarebbe stata colpita da una decina di fendenti nella zona del ventre e del collo. Il legale d'ufficio dell'assassino avrebbe incontrato il suo cliente due volte e durante il secondo colloquio, quello che è l'unico indiziato del delitto di Selene, avrebbe fornito qualche informazione. Sempre in queste ore in carcere, a Bolzano, è previsto l'inizio dell'udienza di convalida dell'arresto del 28enne di origine turca. Nel mese di giugno, Selene aveva presentato una querela in cui riferiva di un unico episodio di percossa e minacce avvenuto mentre si trovava con il compagno in un'autovettura. In quell'occasione i carabinieri avevano subito informato la procura di Bolzano segnalando l'episodio come codice rosso. Nei confronti dell'uomo erano stati formulati i capi di imputazione per percossa e minaccia aggravata. La procura, nel far sapere che per queste fatti specie di reatto non è possibile chiedere misure cauterari, ha specificato che non erano state depositate altre denunce da parte della giovane. Se così fosse, se la legge è stata rispettata alla lettera, viene da pensare che le vittime debbano sperare di uscire vive da questo famigerato secondo episodio che dovrebbe consentire di blocare l'aggressore. Certo Selene la sua parte l'aveva fatta, aveva denunciato, si era confidata con amici e parenti, aveva detto di essere terrorizzata, era contenta di aver chiuso con quest'uomo violento. Dunque si era affidata alla giustizia, ma non è bastato e forse un ragionamento dal punto di vista legislativo andrebbe fatto e andrebbe fatto subito. Intanto si è saputo che venerdì alle 14 saranno celebrati i suoi funerali in paese, un paese di poco più di 6.000 persone, tutti ancora sotto shock. Sulle vetrine di ogni negozio sarà fissa una frase dedicata a Selene.